Campagnolo, Giommi, Galbani, torna sulle strade dell'Italia di un tempo. Riscopri come eravamo attraverso questa collezione unica di straordinari modelli in scala 1 a 43. La collezione dei veicoli commerciali d'epoca raccoglie le più belle riproduzioni dai cast dei furgoni e dei camioncini, delle aziende più conosciute che hanno attraversato l'Italia dal dopoguerra fino ai primi anni Ottanta, realizzate con qualità e fedeltà straordinarie. Un tuffo nel passato in quegli anni indimenticabili. Ordina subito e ricevi 4 splendidi regali. Risparmia il 50% della tua prima spedizione.